Ritornano anche i pronostici per quanto riguarda le coppe europee Oggi andiamo a pronosticare la giornata 3 di Champions League, Europa League e Conference League Ritornano i pronostici europei Se volete ditemi anche i vostri qui sotto nei commenti E reagite ai pronostici della giornata scorsa Partiamo noi perché sennò il video dura tanto Andiamo a reagire ai pronostici di settimana scorsa Settimana scorsa? Oddio Della scorsa giornata, mi confondo sempre Allora, in Champions League della giornata 2 ne abbiamo beccate 9 su 16 Abbiamo sbagliato uno Berlino Braga, United Galatasaray, PSG Sevilla, Lens Arsenal Versa Schattar, Dortmund Milan Stellarossa Young Boys Nell'Europa League invece della giornata 2 ne abbiamo prese 11 su 16 Abbiamo sbagliato IKTN Ajax, Aris Rangers, TSC Olympiacos, Slavia Praga Sheriff e Villarreal Ren In Conference League invece siamo andati un po' maluccio Ne abbiamo prese solo 8 su 16 Abbiamo sbagliato Besiktas, Lugano, Botoclip, Club Brugge Balcani, Dinamo, Zagabria, Klackwisk, Lill Alkmar, Varsavia e Fiorentina, Fenecvaros, Nordiella, Zludo Goretz e Pauk, Frankfurt Pronostici Giornata 3 di Champions, Europa e Conference League Vi ho detto come siamo andati la settimana scorsa Facciamo i pronostici delle giornate nuove Allora ovviamente in ordine di come giocano Quindi 24, 25 Galatasaray, Bayern Monaco, un bell'X2 Occhio al Galatasaray Ah vi ricordo massimo 3 doppie però di competizione Io mi sono già sprecato la prima Bene Inter-Salisburgo Mi piace l'uno, l'Inter vince Manchester United-Copenhagen Credo sia uno senza troppi problemi Siviglia-Arsenal-Gol Una bella gara secondo me segneranno entrambe le squadre Lens-PSV-X Secondo me finisce in pareggio Una bella gara finirà in pareggio Union-Berlino-Napoli X2 Dai X2 Dunque siamo in Germania Una trasferta non facile Però da X2 X2 Chiedo che riusciremo ad ottenere un risultato positivo Braga-Real Madrid 2 Come è ovvio e scontato che sia Benfica-Real Sociedad Gol Due squadre che giocano a calcio secondo me Ne usciranno parecchi gol Feyenoord-Lazio Vi dico 2 La Lazio che dà continuità alla vittoria contro il Celtic Barcellona-Shaktar-Donets 1 Credo sia abbastanza scontato Celtic-Atletico-Madrid 2 Occhio Occhio perché comunque Andare in Scozia e vincere non è mai facile Ma secondo me Prevedo una partita come quella della Lazio L'Atletico la vincerà negli ultimi minuti Paris Saint-Germain Milan Obbligo di vittoria per il Milan Però io non mi sbilancio E dico che segnano entrambe le squadre Gol Newcastle-Dortmund 1-X Secondo me il Newcastle avrà la meglio Sul Dortmund Oppure il Dortmund riuscirà ad ottenere il pari Quindi Newcastle che praticamente andrà sull'onda lunga della vittoria 4-1 contro il PSG Lipsia-Stella-Rossa 1-1 Young Boys City Qui credo non ci siano assolutamente dubbi 2 fisso Anversa Porto X Occhio all'Anversa che comunque è una bella squadretta Mi dico che finirà in pareggio Va Sorpresa della giornata Passiamo all'Europa League Fasi a Gironi UF Europa League Sturm Graz Atalanta 2 Rakov Sporting 2 Molde Aken 1 Olympia-Cos West Ham 2 TSC Friburgo 2 Scusate Marsiglia-IK 1 Sparta-Praga-Rangers Eh Questa l'è bella Questa bisogna ragionarci un po' di più Eh X2 Dai X2 X2 Aris-Betis 2 Brighton-Ias Goal Sono due squadre che giocano a calcio Mi aspetto una partita con tantissimi call Liverpool-Tolosa Credo E suppongo 1 Roma-Slavia-Praga 1 Occhio perché la Slavia-Praga Allo Slavia-Praga Viene da un 7-0 contro lo Sheriff-Diras Però La Roma è tutto un altro avversario Roma-Slavia-Praga 1 Sheriff-Diras Vol-Serpente 1 X Occhio perché sono due squadre ammesse malissimo Royale-Union-SG Lask-Lins X Secondo me finisce in pareggio Villareal-Makabiaifa 1 Panathinaikos-Ren 2 Leverkusen-Karabang 1 Dunque Vi ricordo 3 doppie per ogni competizione 3 doppie per ogni giornata competizione Io per la Champions Ne ho utilizzate due Per l'Europa League Ne ho utilizzate due Ultima competizione europea Ma non per importanza ovviamente La Conference League Lille-Slova-Bratislava 1 Klakwisk-Lubiana 1 X Porca miseria Questa squadra del Klakwisk sta facendo l'incredibile Gend Breiv da Blick 1 Makabi Tel Aviv Zorgia-UX Balcania-Stana X Lugano-Kleb-Bruz X2 Alkmar-Aston Villa Gol Prevede una partita Spettacolare Fenerbahce Fenerbahce-Ludogorez 1 X Bodo-Klimt-Besittas Gol Anche qui due squadre Che stanno giocare a calcio Prevede una partita Con abbastanza gol Francoforte-HJK 1 Dinamo-Zagabria Vittoria-Pilzen 1 Zirsky-Legia-Varsavia 2 Fiorentina-Kukariki 1 La Fiorentina deve assolutamente ottenere la sua prima vittoria in Conference League Quindi col Kukariki devono vincere Genk-Fenechvaros-X Aberdeen-Pauk-Gol Trnavar-Nordiella-X Comunque Questi sono i miei pronostici per quanto riguarda la giornata 3 delle competizioni europee Ovvero Champions League, Europa League e Conference League Se volete, visto che questo è un video iterativo, giocate con me qui sotto nei commenti E ricordate di dirmi anche come siete andati giornata scorsa Dunque Il video finisce qui Noi ci becchiamo Con i post partita Stasera 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 sì Se non mi sbaglio Stasera chi c'è? Stasera c'è la Fiorentina Quindi post partita Fiorentina eboli stasera Ciao